Ciao, in questo video voglio parlare del caffè shakerato, una bevanda super buona e rinfrescante. Il primo ingrediente è ovviamente acqua pura, è priva di gusto e odore. Il secondo è il ghiaccio, che deve essere fatto con la stessa acqua, poi immancabile un buon caffè, per chi vuole un po' di zucchero. Gli strumenti invece sono una caffettiera, uno shaker e uno o più bicchieri. Quindi prepara il caffè, prendi dal freezer i ghiaccioli e lo zucchero, prendi lo shaker e versaci il ghiaccio, lo zucchero a piacere e poi il caffè, anche se ancora caldo. Metti il coperchio e shakera, come Tom Cruise in cocktail, poi versa il contenuto in un bicchiere, trattenendo il ghiaccio. Ora bevi ed energizati con questa rinfrescante bevanda. Questi semplici bevande vogliono solo essere uno stimolo a preparare delle bevande a casa, senza più comprare le bottiglie di plastica. Sono cose semplici che tutti possiamo fare, ma se ognuno comprasse anche solo il 50% in meno di bottiglie di plastica, il nostro pianeta ringrazierebbe di sicuro. Bene, anche per questo video è tutto. Se hai deciso di risolvere i tuoi problemi legati all'acqua, scrivimi o telefonami e richiedimi un preventivo. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video. Ciao!